Ciao a tutti, allora, sprint bassissimo proprio, cioè sono distrutta, non sono sparita per chissà quale motivo in questi giorni, ma perché avevo un evento promozionale della Real Techniques in Rinascente e quindi alla fine della fiera stavo fuori di casa, 12 ore al giorno, tra ore di lavoro, pausa pranzo, viaggio per andare, eccetera, eccetera, insomma. Che cosa vi volevo dire? Niente, volevo fare due chiacchiere, semplicemente perché molte ragazze carinissime, intanto qualcuna mi è venuta a trovare in Rinascente e sono stata contentissima di questo, mi è fatto molto piacere, e molte ragazze mi hanno scritto Silvia, mi manca il video, quando è che carichi qualche video ho detto guardate stasera magari giro qualcosa, in realtà mi si è allagata la cucina perché sono tornata a casa e ho scoperto che un tubo si era rotto e aveva perso l'acqua tutto il giorno in cui ero stata via e quindi la cucina si è allagata e quindi ho perso tipo tra una roba e l'altra quasi due ore a trasciugare tutte le cose che si erano bagnate, avevo posato un faldone con dei documenti che dovevo riordinare, non vi dico in che stato è, guardate voglio tipo stendere un velo pietoso, in realtà volevo, avrei voluto girare il video faccia del giorno perché quando sono tornata il trucco reggeva ancora, poi dopo queste due ore di fatiche è praticamente sfatto, però ecco vi volevo dire una cosa, se non mi seguite su Instagram, seguitemi, nel senso mi farebbe piacere perché io sto usando Instagram non solo per postare tipo il trucco del giorno eccetera, ma anche per segnalarvi un sacco di nuovi prodotti o marchi o cose in offerta o prezzi che mi sembrano interessanti, di cose che trovo in giro perché per esempio adesso ho fatto un sacco di foto di tutti i nuovi brand che ho trovato in Rinascente, di tutti, di tanti dei nuovi brand che hanno portato in Rinascente nel reparto giovane, nella Rinascente giovane che si chiama Annex, appunto Rinascente Annex e li ho postati lì perché è più, cioè nel senso, se no dover fare un video non saprei come montarlo perché dovrei fare un video di foto, non ha senso invece io vedo dei prodotti, li fotografo, vi faccio magari gli swatch, faccio un collage di fotoprodotto, swatch, prezzi, reperibilità e li metto su Instagram e ne sto mettendo tanti, oltre a fare i soliti selfie del cavolo che fanno tutti, trucco magari che ho quel giorno lì eccetera venendo al trucco stamattina moltissime, mi hanno detto ah che trucco fantastico, in effetti guardate che figata ma non il mio trucco, c'è una figata, i prodotti e al di là della base che era bellissima, era bella, luminosa, l'ho fatta con un fondo di Dior che sto per finire era un fondo che mi avevano dato in boccetta una mia amica che aveva una profumeria, il Dior Skin Pure Light e mi piace da morire, mi piace tantissimo, è veramente luminoso e ultra ultra leggero e come copriocchiaie, come correttore il Dior Skin Star nella numerazione 02 mi sta dando qualcosa nell'occhio, c'è una ragazza di voi carinissima, mi ha detto io non uso e vorrei inviartelo e quindi me lo ha inviato e quindi io ti ringrazio tanto perché lo sto utilizzando e mi piace moltissimo, peraltro il mio colore perché prima usavo il Dior Skin Sculpt numero 03 ed era, andava bene ma in realtà questa colorazione 02 secondo me l'hanno un po' scurita quindi è quasi pari, cioè è pari secondo me al tre che usavo prima quindi mi piace tantissimo poi che cosa avevo? Avevo le labbra con Rebel, immaginatevi questo trucco con Rebel sulle labbra vedete c'è la morte sua, metto il rossetto vicino all'occhio per farvi vedere che avevo tutti dei toni con Prugna, Borgogna e poi con Solstice di Urban Decay ho tutta la manicure sminchiata dopo due giorni cioè veramente ce l'ho da mercoledì Fabi, presentazione Fabi, mi hanno fatto la manicure cioè guardate, vedete che è rovinato qui sulle punte ma ragazzi io ho sballato un sacco di merce ho fatto 9 ore al giorno di lavoro dove caricavo merce, frugavo, toccavo quindi veramente è sottoposto alla qualunque, questo smalto cioè è così io con altri smalti non avrei forse neanche traccia, vabbè poi vi parlerò anche degli smalti perché ho un haul da farvi dove c'è di tutto e di più ragazzi ho fatto shopping da Urban Decay, ho ricevuto delle cose di Paola P altre cose oltre che i famosi rossetti di cui tutte parlano ho comprato da MAC, ho delle cose di Lush, ho comprato un nuovo marchio che c'è in Rinascente di cui trovate le foto in Instagram che si chiama Lipstick Queen che è stato creato da Poppy King che praticamente è una make-up artist comunque una maniaca di rossetti che ha deciso di creare la sua linea di rossetti e forse alcuni di questi rossetti, cioè quelli della linea Velvet Rope sono i migliori rossetti vellutati, effetto velluto, effetto velvet che io abbia mai visto, qualcosa di allucinante hanno anche un prezzaccio perché costano 45 euro l'uno ma sono una roba fantastica, vi ho messo anche di quelli listwatch comunque il marchio l'ho trovata in Rinascente prima si trovava soltanto da Corso Como 10 appunto con Corso Como a Milano ragazzi, ho niente, comunque ho fatto un acquisto di Lipstick Queen che poi vi farò vedere cioè ho preso un rossetto packaging top, rossetto allucinante proprio i packaging sono qualcosa di bellissimo comunque poi vi dicevo Wicom sì, no Wicom sì, ho preso delle cose da Wicom ho preso, tengo il teaser, la nuova spazzola insomma ragazzi, ho preso un bel po' di cose stavo guardando qui cosa c'è ho preso delle cose da Tiger da farvi vedere, insomma ho una mega galattica tornando al make up del giorno perché mi perdo, divago, poi sono stanca appunto Solstice di Urban Decay che è l'ombretto che appunto ho applicato sopra guardate che riflessi pazzeschi ha so che molte lo hanno bocciato ma io assolutamente lo strapromuovo perché questo ombretto non va utilizzato secondo me così da solo ma va utilizzato tamponato sopra una base cremosa o comunque un make up già finito per dare quel tocco che vedete, cioè io niente continuavo a guardarmelo oggi mi hanno fermato tutti tutti quelli che passavano in reparto tutti, vabbè, tutti quelli che lavoravano con me tutti, oddio, ma che make up hai? è fantastico le clienti che si soffermavano a parlare con me appunto di rossetti, di trucchi perché era proprio nel reparto profumeria giovanese della Rinascente sono lì in questi eventi promozionali che faccio e quindi sono tra la Lipstick Queen la Sia Te linea Limited Edition Olivia Palermo Tango il Teaser Dr. Bronner che è un altro marchio che è arrivato in Rinascente R&Co credo si chiami R&Co, sì una linea per capelli sempre made in USA sempre made in USA Dr. Bronner poi cosa c'era? la Egyptian Magic la crema numero uno venduta da Boots Sia Te tutta la linea cura unghie Aiko insomma tantissimi marchi sta diventando veramente trendissimo quel reparto una tentazione continua a parte dei costumi hanno messo dei costumi da mare dei bichini favolosi c'è una roba che quando è venuta a trovarmi a Lida perché sabato a Lidinamos non so se la seguite comunque è venuta a trovarmi a Milano cioè non è che è venuta a trovare me lei è venuta a fare shopping a Milano con le sue amiche e di solito ci incontriamo sempre quando lei viene a Milano perché io lavoravo quindi carinamente sono venuta a trovarmi in Rinascente e anche lei è rimasta cioè estasiata da questa linea di costumi che è bellissima cioè non abbiamo comprato costumi solo perché praticamente siamo agli inizi di marzo se no avremmo comprato dei costumi adesso lei farà il suo video shopping anche lei attratta da Lipstick Queen se ne è comprato uno mi sembra che abbia preso una tinta e insomma sto divagando con cosa ho fatto il make up allora come base occhi avevo messo il Kiko Long Lasting Stick Shadow questo qua il numero 37 quindi insomma probabilmente molte di voi lo conosceranno questa sorta di borgogna marrone borgogna quindi su tutta la palpebra mobile c'è questo come base cremosa poi il matte Velvet Matte di Catrice che è praticamente distrutto quindi non lo posso girare vedete questo è un borgogna però non posso girarvelo è un borgogna meraviglioso uno tra i più belli che io abbia l'ho messo nell'angolo esterno poi ho sfumato ho sfumato sì nella parte iniziale dell'occhio ho utilizzato questo ombretto di Nabla che che si chiama non me lo ricordo scusate Fahrenheit che è dell'ultima collezione l'ho messo proprio all'inizio dell'occhio poi ho sfumato nella piega con un altro un altro ombretto dell'ultima collezione di Nabla che è questo qui che non mi ricordo come si chiami anche lui si chiama Circle ho sfumato con Circle poi sotto l'occhio e anche all'inizio della piega ho messo credo Daphne Daphne 2 ve lo faccio vedere qua ecco Daphne 2 e poi ho utilizzato anche lui per intensificare insomma ci sono un po' tutti gli ombretti sì c'è Mimesis quindi questi tre il Borgogna quello lì che vi ho detto di Catrice è anche questo qua Circle quindi tutta una gamma di prugna rosa eccoli qua vedete questi ops faccio i guai questi qua più quello di Catrice più Solstice oggi non mi viene sopra più nell'angolo interno e si vede ancora vedete il punto luce che ho nell'angolo interno è della palettina della Slick ed è questa meraviglia questo ombretto qua c'è ombretto che poi è un illuminante che ho usato sia come illuminante sia come punto luce come punto luce è fantastico ma anche come illuminante guardate cos'è c'è una roba meravigliosa guardate bellissima questa palettina la trovate da Sephora quindi ve la straconsiglio poi come blush avevo dovete tipo immaginare questo make up comunque vi lascio no andate da andate a vedervelo su Instagram perché voglio caricarlo subito se mi metto a editare il video inserendo qui e lì varie cose non ve lo posso pubblicare stasera stasera invece mi sa che anche se è tardi lo pubblico subito quindi andate magari se vi va a vedere la foto su Instagram del make up o anche sul mio Facebook che ho pubblicato oggi era bellissimo stamattina comunque questo è il blush che ho utilizzato che è appunto della collezione Rebel Romantic di Kiko ed è il Rebel Bouncy questo numero 04 Passion Red Wine quindi insomma ci stava da dio e poi appunto ho completato tutto con il mio fantastico amato adorato Rebel e basta credo di avervi ah come matita contorno labbra che con Rebel ci sta benissimo avevo lei aspettate che ve la prendo eccola qua allora la Long Lasting Lip Liner Yummy Berry numero 03 di Essence che è un colore che ci sta benissimo con Rebel eccolo qua quindi insomma queste matite le amo le adoro proprio tantissimo ah ho preso anche qualcosa da NYX ovviamente insomma ho tante tante cose da farvi vedere credo che domani stesso farò il video haul quindi non so se riesco a mettere tutto ho preso anche ah sì anche beauty ho preso cioè tipo prodotti per capelli shampoo di tutto e di più perché era passato un po' di tempo da quando non facevo una haul di questo tipo insomma la di nuovo haul mega galattica e basta ragazzi vi ho detto tutto vi aggiornerò anche dei marchi che ci sono in rinascente in rinascente scusate vi ho detto ah ecco sono arrivati dei nuovi pennelli della Real Techniques anche quelli li trovate ve li farò vedere comunque nelle haul li trovate nelle foto che ho messo su Instagram è arrivata la vaschettina lavapennelli che è figherrima cioè veramente carina perché ha un plus in più perché ve lo faccio vedere poi cioè non è il solito guanto lavapennelli ha un plus rispetto agli altri che all'inizio non avevo diciamo apprezzato così guardandola non mi era saltato così alla all'attenzione poi però ho lavato i pennelli ho detto hai capito che questa roba qua è molto più comoda quindi è arrivato quello è arrivato il detergente sono arrivati i nuovi pennelli della linea bold metal e sono arrivati dei nuovi kit duo fibre della linea base bellissimi bellissimi e poi che dirvi d'altro basta vi aggiornerò ah sto preparando il video sulla skin care nuova insomma un metodo nuovo di skin care che mi sta veramente appassionando ve ne devo parlare perché vi devo dire un sacchissimo di cose in merito poi vi devo fare il make up di febbraio dove appunto vi faccio vedere un bel po' di prodotti utilizzati nel periodo le side orimanie di febbraio e basta e quindi c'è tanta carne al fuoco per i prossimi video però così ci tenevo stasera a caricare un video al volo di quelli magari chiacchierati dove non è che ho fatto e ho detto chissà che però l'ultimo video chiacchiere è andato benissimo quello che ho fatto in macchina pensavo non se lo sarebbe filato nessuno e invece evidentemente vi piacciono sto buttando giù tutto vi piacciono anche le chiacchiere e va bene vi mando un bacio ci vediamo domani che magari per voi sarà dopo domani però ci vediamo presto con il video bacio un po'